Una pianta da non farsi mai mancare in casa, la felce. Eccola qua, questa è di una varietà particolare ma ne potete prendere all'interno di Vivai varie tipologie. Io la uso soprattutto nel mio appartamento per evitare che l'accumulo di vapori e di acqua nei residui della doccia possano creare delle muffe, quindi la posizione in bagno. Ma si può mettere in tantissime zone della casa, ovviamente ben illuminate dalla luce solare, di giorno o anche solo mezza giornata, mattino o pomeriggio. L'ideale quindi anche per assorbire i gas tossici chiamati appunto BOC, composti organici volatili che possono lasciare dei residui che non fanno bene ai nostri polmoni in casa. Eccola qui, una piccola felce da curare e coccolare per avere una casa ancora più verde e green.